Cosa... che fa il cannolo? Vim Product placement a questa cosa? Sì Ah beh, no Più c'è la mia faccia Scusa Bravo Grazie a tutti 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 Questo video è stato fatto We got some merch Link in descrizione Molto fresca devo dire Se volete fare some fresh shit E poi adesso andiamo a dormire Domani si ritrena e si filma il pop La prossima settimana dopo Andate a guardare Iscrivetevi Link in descrizione per cose utili Tipo i clothes Perché senza clothes siete scandalosi Raga, compratevi dei clothes Yeah, come grazie a tutti Ciao, ciao ha, ciao a tutti